Accusati di violenza sessuale di gruppo, hanno tra i 18 e i 20 anni e sono residenti nell'area vesuviana i tre giovani fermati nell'ambito delle indagini sulla violenza sessuale subita da una giovane 24enne originaria di Portici, avvenuta in un ascensore della stazione della circunvesuviana di San Giorgio a Cremano. I tre sono stati bloccati nella notte dai poliziotti del locale commissariato che hanno loverato incessantemente dalle 18 ora in cui una telefonata anonima ha allertato gli agenti del posto di polizia. Le indagini si sono avvalse anche dell'utilizzo di telecamere e dell'impianto di videosorveglianza. Li hanno presi, scrive in un posto su Facebook, il sindaco di San Giorgio a Cremano, Giorgio Zinno, che in un messaggio precedente aveva definito i presunti autori del gesto vigliacchi e bestie. Impossibile pensare con crimine del genere, ha detto il sindaco, avvenga nella nostra città, ancor più impensabile che nessuno veda. Il primo giorno del reddito di cittadinanza a Napoli si presenta con poche file negli uffici postali, un maggiore afflusso invece nei CAF dove gli addetti si sono preparati in anticipo con un'organizzazione interna che ha previsto anche appuntamenti nei vari giorni a partire da oggi con i richiedenti. Ma l'afflusso vero potrebbe esserci nei prossimi giorni, afferma Alessandra Mogaro, responsabile per la provincia di Napoli e la regione dei CAF CISL. Per la giornata di oggi abbiamo retto bene, la macchina organizzativa ha funzionato. In fila tra i disoccupati, gente di ogni età in cerca di lavoro, aggrappata, la speranza del reddito di cittadinanza in attesa di un'occupazione vera. Visita napoletana del ministro per il sud Lezzi per un incontro tecnico con il presidente della regione di Luca sui fondi europei. Per adesso la campagna non ha criticità da evidenziare, sta andando avanti con la spesa dei fondi strutturali europei. Ci siamo aggiornati ad un prossimo incontro più di natura tecnica nelle prossimi giorni per fare il punto anche sul fondo sviluppo e coesione, perché ci sono delle risorse ancora non utilizzate dalla programmazione 2000-2006. Vi ricordo che questo fondo è di carattere nazionale. I fondi europei si devono riprogrammare, ha detto De Luca, per l'edilizia scolastica e rafforzare quelli sull'ambiente e sull'assetto idrogeologico. Si è poi soffermato sulla questione dell'autonomia delle regioni e dei navigator del reddito di cittadinanza. E vorrei che fosse chiaro anche agli organi di informazione che non ci sono solo tre regioni che hanno chiesto l'autonomia, ce ne sono quattro. Pare che questo dato non sia chiaro a tutti quanti. Siamo in quattro a discutere. Ovviamente andremo a discutere sulla nostra linea. Le stupidaggini che ha raccontato Salvini, noi non toccheremo un euro, devono essere smascherate. Altro che non tocchiamo un euro. L'ipotesi fatta per il Veneto significa dare al Veneto 6 miliardi di euro in più rispetto all'attuale spesa storica. Quindi dobbiamo aprire gli occhi, combattere per evitare che, scherzando scherzando, la secessione la facciano nei fatti, rompano l'unità nazionale e tolgano miliardi di euro al sud. Per adesso rimane un grande caos. Sinceramente non si capisce niente. Per quello che riguarda i famosi navigator, li chiamano tutori, accompagnatori, navigator non sono. E non ci stanno ancora, perché bisogna concordare poi le procedure attraverso le quali assumere questi. Lei pensa che si assumono 6 mila giovanotti, senza dire chi poi li paga questi giovanotti, perché il primo anno fa finta di pagarli il governo e poi, dopo il primo anno, chi paga?